Anche il centro storico della città di Agropoli è cardioprotetto e infatti il 3 marzo ci sarà lo start del corso di formazione proprio per tutti gli operatori del centro storico e quindi delle attività commerciali ma anche per i cittadini. Ma prima di raccontare questa cosa vorrei fare un passo indietro e farmi raccontare da Giussi ecco come è nata questo progetto, questa iniziativa? Ricordiamo che tu hai scritto un libro e poi da questo libro che cosa è successo? Allora l'idea è nata da questo libro di poesie La voce dei gabbiani e approfitto per ringraziare non solo Cilento Channel che me l'ha promosso ma anche il dottor Crispino e tutto lo staff del Settembre Culturale e la decisione è stata questa di devolvere tutto il ricavato per un'associazione l'associazione La Panchina, una giornata per la vita e per vita di Albanella quindi tutto è stato devoluto a questa associazione la quale a sua volta ha donato un defibrillatore al nostro centro storico quindi il centro storico sappiamo bene che è stupendo però non facilmente accessibile per le ambulanze quindi per le emergenze soprattutto d'estate quando realmente è colmo di turisti e quindi abbiamo voluto che fosse cardioprotetto Infatti l'associazione al quale è stata devoluta la somma di denaro che avete ricavato dalla vendita di questi libri ha deciso di installare un defibrillatore qui ad Agropoli praticamente nel centro storico anziché ad Albanella perché ricordiamo che è la mamma di un bimbo che purtroppo ha perso la vita proprio a causa di un arresto cardio circolatorio Invece il 3 marzo ci sarà lo start per quanto riguarda i corsi BLSD Sì, allora innanzitutto voglio nominare la professoressa Emilia Verderame che è la presidente dell'associazione La Panchina con questa associazione hanno donato defibrillatori in diverse zone del Cilento però hanno voluto che questo fosse proprio per noi del centro storico e giorno 3 chiudiamo con gioia questo progetto perché giustamente non avrebbe senso avere il dispositivo e non essere in grado di intervenire siamo una trentina di persone e abbiamo voluto dare la precedenza alla partecipazione chiaramente agli operatori, catechisti, educatori, commercianti del centro storico che chiaramente ne diventano non solo operatori quindi utilizzatori ma anche custodi di questo dispositivo Giussi ricordiamo dove è posizionato il defibrillatore? Allora alle spalle della chiesa della Madonna di Costantinopoli Grazie